Gentilezza è un sentimento nobile, troppo spesso ingrigito e schiacciato dal quotidiano. Da tempo ormai lo sta rispolverando la giornalista e scrittice fiorentina Gaia Simonetti, insieme ad altre 2000 persone, un'ambasciatrice di un progetto che ha portato alla costruzione di un alfabeto della gentilezza, scritto dai bambini per i grandi. 25.000 parole hanno preso forma in 400 giorni e si sono tradotte in gesti pratici con famiglie, scuole e società sportive. Il simbolo è la panchina viola, colore della gentilezza che nasce dalla fusione del rosso del cuore e il blu della testa alla Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano. Simonetti ha ricevuto il premio Nostalgia di Futuro, sezione Sostenibilità, Sociale e Comunicazione, promosso dall'osservatorio Tutti Media ed è da queste parole che viene lo spunto per un altro sentimento da rimettere al centro per questo Natale. La parola C, di coraggio, a caratteri cubitali e con tantissimi colori. Ecco, dobbiamo essere coraggiosi perché lui ha scritto proprio una frase d'accompagnamento al suo alfabeto, essere gentili oggi è un atto di coraggio, ha scritto il piccolo Daniele e io voglio essere gentile ogni giorno. Quindi ecco, ripartiamo dalla parola coraggio, mettiamoci anche tenerezza perché è un'altra delle parole più usate dai bambini e forse è qualcosa che stiamo perdendo e che dobbiamo veramente recuperare e quindi ascoltiamo i bambini. Gaia Simonetti ha visto riconosciuto anche l'impegno nel sociale con Ci mettiamo il naso, il libro che raccoglie storie di vita di persone che dopo una giornata di lavoro indossano un naso rosso e vanno negli ospedali a tendere la mano ai piccoli pazienti.